Pronto, Maria! Ma chi è? E' un inguidino di Pianecop, dottor Nino Maurizio. E' una pizzecchè, madre, ma sti polpa al fuga, ti hai saputo cosa c'è ora. Pronto? Maria! 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 Ma... Ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Ma non lo so, ma non lo so. Ma non lo so, ma non lo so. Ma Luca mi fai morire, tu giuro levo e scendo un sacco giù. Ma non lo so. Ma mi chiamano, ma non lo so. Ma te le mori? Cioè dice, Mary, perché tu hai qua? Mi sei una pizzecchè. Ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Ma mi hai qua? Ma hai qua... Ma ci stai nella puzza di che maniera la coppa? Ma che è stato cucinando a basso? Ma chi è? Sto Tonino. Che Tonino? Tonino mi vuoi dire. Ma ci stai nella puzza la coppa ma che è stato facendo? Io non ci capite chi sei. Sto Tonino, come non mi conosci? Salutiamo te e Maria. Tonda Maria. Eh? Ma a me ne è pulizzata un po' che sta cucinando, l'angolo qua. Ma che è stato comandato? Sto prendendo la puzza di che maniera la coppa? Pronto? Mi sei cazzo? Giura quando fai venire la coppa? Giura! E' un vecchio che mi... E' un vecchio che è un po' che non scadilla. Ma avendo in sboppa. E' un vecchio che è un po' staccato. Giura qui siccome sono... 89 e 24 e 24. E' un po' che minuto la coppa ma è un po' che rileverci. Ma dice come succede al passato?